Buongiorno e benvenuti e ben svegliati da Sette in Punto. Questa mattina parliamo di teatro, delle stagioni di prosa programmate per l'autunno e anche dello stato di salute del teatro dopo i due anni di pandemia che ha subito, come tutte le arti, delle battute di arresto, molte difficoltà perché appunto sono state le attività in qualche modo più penalizzate. Per parlare in particolar modo della stagione di prosa del teatro Toniolo di Mestre che è davvero un teatro che negli anni sta riscuotendo un successo non più solo legato alla cittadina ma davvero un successo regionale. E ho qui con me Pierluca Donin, buongiorno e benvenuto, direttore artistico di Arteven. Arteven è un deus ex macchina che permette da vari anni di confezionare il cartellone autunnale e invernale del teatro Toniolo con un successo crescente. Qual è l'ingrediente magico di questa riuscita? Diciamo che non c'è un ingrediente solo e non è magico e poi se ci fosse lo terrei molto come la formula della Coca Cola. Che però è un po' in fase. Diciamo che il Toniolo è un teatro partecipato, se posso usare questa parola, nel senso che tra l'altro è uno dei teatri che non ha un direttore artistico, e quindi di fatto è una compartecipazione tra proposte e cose che si vanno a vedere con una grande relazione con l'assessorato della cultura, quindi con i dirigenti e i funzionari dell'assessorato della cultura di Mestre. E questo fa sì che nel continuo confronto tra persone con l'obiettivo di fare il bene di quel teatro e non con obiettivi di ego oppure di personalismi, viene costruito una rosa di spettacoli molto ampia che poi piano piano si conforma e diventa quello che è la struttura di una stagione teatrale che ha molto pensiero sotto, nel senso che non è assolutamente casuale, non c'è nulla di casuale al Toniolo. C'è una direzione artistica più che un direttore, una direttrice artistica. Questo è l'elemento anche perché il forte legame con l'amministrazione comunale, con il Dipartimento della Cultura, quindi con i funzionari anche delle comuni che sono preposti a fare poi quello che sarebbe il lavoro di un settore. Questa è la formula magica che magica non è? Diciamo sì e c'è un motivo, nel senso che per capire un teatro bisogna essere sempre dalla parte del pubblico, per cui le persone che ovviamente frequentano il teatro e sono gli spettatori, sono i più bravi direttori artistici della rassegna, per cui mettersi in ascolto, raccogliere informazioni, è sempre una grande sorpresa perché il successo del Toniolo è anche determinato da alcune azioni tecniche come il cambio orario che in qualche maniera ha scovato e stanato un pubblico che non poteva venire alle 21. Però oltre al fattore tecnico e di marketing e di individuazione, poi alla fine le motivazioni che ci hanno spinto quella volta allo spostamento dell'orario, che per noi erano uno finisce di lavorare, beve lo spritz e poi va a teatro, sono diverse da quelle che effettivamente sono, e cioè che alle 23 girare la sera nelle città piccole e medie diventa un fattore fastidioso, per cui le persone tendono a venire prima perché sono appassionate di teatro e vogliono vedere il teatro, però vogliono arrivare a casa a un orario congruo oppure andare a cena fuori, infatti si è riattivato tutta la ristorazione dell'area. Una modalità molto new yorkese e molto londinese, di andare a teatro intorno alle 18-19. Forse sarebbe un po' prestino per noi, però voglio dire, alle 19-30 l'abbiamo individuato come orario, altri hanno tentato di mettere degli orari 20-30, 20-15, 19-01, 19-30, c'è l'entra a fare. Però rimane una alle 21, che è il venerdì, perché... Quei poveri appassionati di teatro che alle 19-30 non potrebbero mai essere in teatro, perché stanno ancora in mano con le chiavi dell'ufficio. Abbiamo pensato anche a loro, il venerdì ovviamente è una giornata dove il lavoratore non pubblico è più rilassato, ha più voglia di... C'è il weekend davanti. C'è il weekend davanti, quindi il venerdì alle 21 va a teatro e si gode del suo spettacolo. Poi voi avete teatro dal martedì alla domenica? Martedì a domenica. C'è una settimana... È l'unico teatro che ha aumentato il numero dei giorni della settimana rispetto a molti altri teatri che si sono dovuti adattare a un pubblico che non partecipava più oppure i programmi erano... E come fate, ovviamente avendo sette spettacoli, sette, no, sei, cinque spettacoli alla settimana, come fate a organizzare la stagione? Perché ovviamente giocate anche ad incastro, che questo è un altro plus che ha questo teatro, perché contemporaneamente in una settimana si può avere sia il cartellone se un abbonato, ma può accedere anche allo spettacolo di danza, allo spettacolo dei comici, oppure a seconda della fascia di abbonamento si può avere uno spettacolo piuttosto che un altro. Ecco, come è organizzata la gestione degli abbonamenti e anche dei biglietti? Perché un'altra questione annosa del Tognolo è che gli abbonati occuperebbero tutti i posti, però voi... Li fermiamo, li fermiamo. Li fermiamo quando vediamo che arriviamo all'80% della capienza, cominciamo a rallentare e inseriamo gli abbonamenti più corti, quelli diciamo a 4-5 spettacoli, di modo che rimanga uno spazio libero per il pubblico che deve ruotare. Poi quest'anno ci sarà anche l'occasione per i ragazzi dell'università di venire a teatro con la formula una poltrona per 2,50, giocando sul titolo del film, con 2,50 euro praticamente i ragazzi dell'università possono andare a teatro, ovviamente con 10-15 posti a sera. Però la formula nella sua articolata complessità nel costruirla è molto semplice, scegli una giornata della settimana e hai un programma, quindi in sei giorni sono sei rassegne, una diversa dall'altra. Come sono pensate? Sono pensate in maniera che i primi giorni della settimana sono un po' più spinti verso la contemporaneità, verso un teatro più impegnativo. Poi man mano che la settimana matura, alleggerisce un attimo, arriva la domenica dove c'è diciamo uno spettacolo, non dico di consenso, ma più leggero, più di intrattenimento. Quindi lo spettatore scegliendo il giorno sceglie anche l'impegno che vuole avere rispetto alla stagione del Tognolo. Un'altra caratteristica delle stagioni, che non è una novità, ma che caratterizza credo il Tognolo, è quello di dare spazio a molti generi. Lei parlava prima della contemporaneità. Un occhio alla contemporaneità, alle volte che può essere letta come un azzardo, ma un azzardo che piace al pubblico di chi frequenta il Tognolo, che sta piacendo sempre di più. Sì, tutto questo è un po' un difetto, nel senso che se noi facessimo una rassegna esclusivamente di contemporanei forse non avremmo i numeri di pubblico che ci interessano e che sono necessari per poter mantenere anche una struttura che economicamente ha un peso per il Comune di Venezia, non è differente. E quindi inseriamo alcuni spettacoli contemporanei all'interno di un cartellone molto degno. Per esempio quest'anno c'è... Eh, ci fa qualche anticipazione. Per esempio, no, ma io ve la posso dire tutta la stagione, perché per esempio Finzi Pasca, che è un regista di circo contemporaneo, quotatissimo all'estero, svizzero, arriva con il suo spettacolo Nuda, che è uno spettacolo assolutamente figurativo. Noi ospitiamo già Donca, questo è nuovo nuovo, l'ha appena finito, e Donca, io andai a vederlo al piccolo di Milano, e fui stupefatto dall'uso del ghiaccio in teatro, che non avevo mai visto, cioè questo lampadario di ghiaccio che man mano che il calore aumenta in teatro comincia a sciogliersi e partono i pezzi di ghiaccio e si schiantano nel PVC del pavimento. E questo effetto, che è casuale, ovviamente random, perché a seconda di quanto caldo c'era nel teatro si scioglieva, fu un effetto fortissimo per me che ero abituato alla prosa canonica, seppure con, come dire, spunti o rubacchiamenti dalla danza anziché della musica. E quindi l'ospitale Finzi Pasqua per noi diventa una firma, quasi, ma c'è anche Carrosseria Orfeo, cioè quello che non usiamo è lo star system per far vedere come stanno interpretando i contemporanei il teatro. Poi magari fra dieci anni saranno loro i protagonisti e dovremmo trovare altri giovani. I classici, saranno loro i classici. Certo, però questo sta nelle cose, ma abbiamo ospitato sempre attori che poi magari sono esplosi, come Battiston o Andrea Pennacchi, che quest'anno è inserito nella rassegna, ma che... Ma anche la Michela Cescon, se non sai. Ma la Michela Cescon, ma la Paola Minaccioni, sono tutte attrici molto importanti, molto brave, che però difficilmente trovano uno spazio facilmente. Ecco, il Toni Olo su questo è sempre stato avanti dieci anni. Qual è il suo lavoro nello specifico? Perché noi la conosciamo da tempo, no? Direttore artistico, la prima faceva riferimento a questo spettacolo che è andato a vedere al Piccolo di Milano. Il suo ruolo è proprio quello di... anche un ruolo invidiabile, deve vedersi gli spettacoli, poi invidiabile per certi versi perché vede tanti spettacoli. Poi però deve scegliere quelli che possono avere un appeal per il pubblico del Toniolo, per il pubblico Veneto, eccetera, eccetera, perché come ha detto poco fa, non è che è solo una scelta artistica, bisogna anche fare i conti con i conti. E quindi come funziona? Beh, ci sono delle componenti, ovviamente non sono da solo, perché Arteven distribuisce un migliaio di spettacoli all'anno, quindi dovremmo passare tutto il giorno in teatro e non lavoreremo più, perché qualcuno ti chiede ma che lavoro fai, vado a vedere gli spettacoli? Quello è un lavoro poi alla fine. Il lavoro vero, no? Qual è? Però al netto di queste cose, io vado a vedere moltissime cose, specialmente dove ho dei dubbi. Diciamo che la maggior parte dei spettacoli di quest'anno che sono a Mestre, avendo avuto due anni di pandemia, ha rallentato un po' il numero di produzione che sono state fatte e sono andate a vederli quasi tutti, tranne quelli che debuteranno e sono nuovi, che però hanno un'etichetta, una forza nel titolo, nell'autore, nel regista o negli interpreti così importante, così robusta, che possiamo anche non andarli a vedere, tipo quasi amici con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, la storia la conosciamo, sappiamo che sono due interpreti forti, ce li immaginiamo un po' e andiamo a vederli anche, come dire, non occorre andarle a vedere prima, mentre Misery con Pezzotta che è tratto da un film molto forte, per cui il confronto lì diventa spigoloso, la riscrittura di questo è, sono andato a vederlo e devo dire che è uno spettacolo che ha una bella immagine, questo rotante che ci permette di vedere la stanza di Misery da più punti di vista, gli interpreti ci sono, quindi ci sta, mamma mia, non vado a vederlo, perché mamma mia, è la Musica degli Abba, non è che se vado e dico, beh, non mi piace, se non mi piace dire che c'è la serata storta io, perché è un musical che ha avuto un successo mondiale e il parere di Donin, diciamo, si può anche trascurare tranquillamente, ma poi è meglio sul Frizzi che si confronta col malato immaginario, beh, lì è il titolo classico, lui è bravo, si conosce, è abbastanza semplice, però dal momento in cui prendi Orsini e Branciaroli, che sono due colonne, che si confrontano con il testo di Per un sì e per un no, lì magari puoi avere qualche dubbio, non tanto sui due attori, ma quanto l'accoppiata, loro fecero Tello, per cui loro si conoscono molto bene, sono andato fino a Torino per vederli e devo dire che lo spettacolo è spassosissimo ed è lo spettacolo che ti piace vedere perché stanno su una parola per un'ora e mezza, cioè una parola che è stata detta 30 anni prima, non lo spoilerò completamente, e uno se la prende e tutto il gioco è su questa cosa qua, quindi una meraviglia di scrittura che ti ricorda i grandi autori teatrali e ti rimette in pace con la prosa. La contemporaneità della prosa oggi si manifesta, lei ha parlato di espedienti scenici, innovativi, che non sono più le semplici macchine teatrali con i pannelli che si spostano e una scena scompare e ne compare un'altra, ci sono proprio soluzioni, effetti speciali mi verrebbe da dire, cinematografici, resi però in tempo reale. Lei però citava anche uno spettacolo di un'ora e mezza su una parola, quindi anche un nuovo stile, una nuova scrittura. Quali sono appunto gli elementi di contemporaneità? Magari da fruitrice degli spettacoli vedo che sempre di più si accorciano gli spettacoli e l'accorciare lo spettacolo non vuol dire banalizzarlo, anzi deve essere di una potenza incredibile perché hai meno tempo a disposizione ma è qualcosa che ti cattura e ti inchioda la poltrona. Sono questi gli elementi dei nuovi autori, dei nuovi interpreti, della nuova drammaturgia contemporanea? Diciamo che la nuova drammaturgia contemporanea scrive della contemporaneità spesso oppure prende grandi miti e ti fa vedere che l'otello è contemporaneo attraverso la scrittura. E questa è la forza del teatro, da che mondo è il mondo? Ma lì stiamo parlando di uno strumento antropologico assolutamente contemporaneo, il vero social è il teatro, c'è niente da fare, hai voglia a TikTok? No, hai cambiato il mezzo ma l'essenza è quello. Però in un mondo in cui si va un po' più veloci, un amletto di cinque atti oggi non lo vede più nessuno, non ce la fai più, perché non ce la fai più. Perché ci sono dei passaggi troppo lenti, oggi il nostro cervello è abituato a delle sintesi, alle volte anche a discapito della comprensione però e quindi devi lo stesso messaggio condensarlo. Cosa è un po' sforbiciare, però su questo come dire i registri ormai sono anche autori e riescono a costruire un progetto molto credibile, con gli attori credibili eccetera eccetera. La cosa che sorprende molto a me è che vedo i giovani andare a vedere i grandi classici e meno il contemporaneo. Mi sorprende da una parte e dall'altra, lo capisco, mi sorprende perché nell'immaginario di un progettista che costruisce una stagione diceva che i classici andano a vedere le persone a certa età e il contemporaneo andano a vederli i giovani, per cui la formula del costo del biglietto eccetera, è l'esatto contrario. Cioè mentre chi ama il teatro è curioso di vedere anche la contemporaneità, quindi sta al gioco. Perché l'attesa di Binosi con la regia della Cescone, con una foglietta straordinaria, la Minaccioni che parla Veneto, che mi fa morire da ridere, è un azzardo alla fine. Perché usi un testo nuovo alla fine, poco visto. È vero che la Cescone ormai è una star, come una star la foglietta, ma è vero anche che i giovani sono meno attratti da quel tipo di spettacolo. Preferisco andare a vedere Mauri, che fare l'IAR. Ma non sarà perché non hanno un percorso culturale di conoscenza. Infatti se lo stanno costruendo e devo dire che... Magari nelle scuole, io ricordo che quando eravamo giovani noi, mi permetto di accomunarci, le piccole recite, quelle cose che si facevano sin dall'asilo, mano a mano però c'era... Diventano qualcosa. Un laboratorio teatrale, noi eravamo tutti un po' affascinati da questa conoscenza. Anche quando studiavamo letteratura italiana ti raccontavano i grandi classici teatrali. Andare a vedere un pirandello recitato da qualcun altro, che se l'hai studiato è anche comodo per uno studente. Sì, più facile, imparare è più facile. Sta lì e qualcuno si... Sì, hai degli elementi di assimilazione, anche io facevo così. Piuttosto di studiare le antologie leggevo direttamente il libro e era molto più facile. Quindi diciamo che gli studenti, i giovani vanno a vedere i classici, non credo per non studiare. Però diciamo che si stanno costruendo un qualcosa. Ma ci sono molti spettacoli dentro la stagione di Antonio Nova. Faccio un esempio. I fratelli di Filippo di Sergio Rubini. Il film è straordinario, bellissimo. Lui prende gli stessi attori, li porta in teatro e farà il narratore. Allora, anche questa azione, dipende dal cinema, o quasi amici, un titolo cinematografico. Il fratelli di Filippo è un film molto bello, che però il cinema purtroppo è quello che ha subito più malanni dalla pandemia. Questo film è stato tre giorni in sala e poi la settimana dopo era in piattaforma. Io l'ho visto in piattaforma, ma non perché non potessi andare al cinema, perché non ti viene, no? Però Ezra in gabbia di Rigillo, l'attesa della foglietta. Poi siamo andati a vedere questo nuovo spettacolo degli stivalaccio teatro, che sono degli inventori della Comedia dell'Arte, con questo arlecchino mutuo per spavento, l'abbiamo collocato ovviamente a febbraio, il carnevale. Certo, ci deve essere una... Ospitiamo il berretto a sonagli di Lavia. Cioè, c'è un salto fortissimo da Finzi Pasca a Lavia che fa il berretto a sonagli. Però c'è tutto il teatro. E dentro c'è tutto. C'è tutto. Se uno guarda queste due, viene a vedere questi due spettacoli... Ha già visto un arco parlamentare molto ampio, no? Ah sì, voglio non parlare in questi momenti. La teatro è politica, però con la prima aiuto non è politica. Sì, la politica nel senso che parla della gestione della civis. Però ovviamente una stagione del toniolo ti arricchisce così tanto che hai meno bisogno di cercare da altre parti, perché la variabile è molto alta. Adesso la provoco. Sì. Perché il toniolo può fare tutte queste, chiamiamole, sperimentazioni e magari... Insomma, Arte Veneto fa parte anche del Teatro Stabile del Veneto, dove effettivamente anche per loro sono tre teatri, il Berdi, i Goldoni e il Teatro Comunale di Treviso, quindi sono tre icone, se vogliamo, della drammaturgia del Teatro Veneto. Ecco, sono invece più filologici, più classici, se vogliamo. Anche se, devo dire, quest'anno a mio avviso ci sono degli inserti molto tonioleschi, si può dire così, senza far venire le fumane a nessuno. Ma al netto delle scelte artistiche che ognuno fa, ovviamente, in base a quello che immagina sia perfetto per adempere a un mandato pubblico rispetto a esigenze personali, conoscenze personali, spettacoli del mercato, perché non sempre c'è tutto nel mercato. Qualche spettacolo c'è in un periodo, poi non c'è in un altro e magari si sovrappongono tre spettacoli fantastici e ne puoi fare uno. Quindi al netto di questo io credo che il territorio regionale, che io conosco molto bene, abbia anche bisogno di questo. Nel senso che ci sono delle differenze per cui un pubblico più classico andrà a vedere le cose più classiche a Padova, anziché a Treviso, anziché a Venezia, ma magari anche a Legnago posso immaginare un teatro classico, oppure Verona, ognuno prende una strada. Se questa strada è diversa per ogni teatro, diciamo che per il pubblico è un bene, perché può scegliere. Poi che sceglie il toniolo, ovviamente. Ma quanto il pubblico invece è legato al territorio, cioè quanto la passione per il teatro è una passione che quindi uno si costruisce il suo percorso di spettacoli andando un po' qua un po' là, o quanto invece c'è un pubblico che l'appassionato di teatro di Padova ha un certo tipo di caratteristiche, quello di Venezia ha altre, per cui vi trovate a dover anche costruire un cartellone che soddisfi sia i gusti di un pubblico, ma di un pubblico un pubblico che è stanziale poi alla fine. Certamente una parte del pubblico è stanziale, nel senso che non prende la macchina. Dipende anche molto dal genere e dall'interprete. Per esempio Pierfrancesco Favino, fatto in un teatro, probabilmente raccoglie un arco chilometrico molto più ampio di Donin che va a recitare la poesia di Natale. La danza per esempio ha una migrazione molto più ampia, non è un caso che per la danza oltre al Tognolo, noi operiamo su Belluno, su Vicenza e sull'area di Mitrofe, difficilmente puoi vedere uno spettacolo di danza di grandi dimensioni a Mira. Mira prende una strada perché le sue dimensioni ti permettono anche un appeal diverso con il pubblico, per cui vanno considerate anche le caratteristiche architettoniche dei teatri. Diciamo che se c'è una migrazione, è una migrazione non su tutto il cartellone. Su alcune parti noi riscontriamo, perché abbiamo tutti i movimenti del pubblico, da San Donà su Portogruaro, da Portogruaro su Iesolo, molto pubblico di area nordestina transita sul Tognolo, la parte sud del territorio transita più sul Gueldone di Venezia, perché è più comodo, per me prendono il Pulma, arrivano in Piazza della Roma, quindi il pubblico migra, ma con la danza internazionale per esempio migra molto di più che con uno spettacolo, il malato immaginario di Solfrizi. Ma questo perché magari ci sono meno appassionati di danza rispetto a un appassionato di prosa? No, questo non credo. Certamente i numeri danno ragione più alla prosa che alla danza o alla musica classica, però i teatri hanno una capienza, non sono teatri da 20.000 posti. No, noi abbiamo teatri all'americana, il Green Theater anziché, no? No, noi abbiamo teatri che sono, dopo le regole, dopo l'85, dopo il Cinema Statuto, le disgrazie sono successe, la trasformazione in sale super sicure. Questo ha ridotto fortemente il numero dei posti e anche la capacità di restare in piedi sul piano economico, perché questo va detto. Se non ci fossero i comuni, le città metropolitane, la regione, il Ministero e i teatri, non starebbero in piedi. Per cui il pubblico che compra un biglietto partecipa a un costo esattamente come partecipa quando sale in pulma, che non costa 1,50 euro, o quando va a scuola, che paga una retta, ma dietro c'è un costo più importante. Adesso le faccio varie domande raffiche, perché il tempo è poco a disposizione, ma le curiosità sono tante. Lei parla appunto di teatri che hanno una capienza limitata, e spesso si è parlato di farli lavorare, tra virgolette, non solo la sera, già il fatto che voi avete anticipato alle 19.30, ma fare più spettacoli in un giorno. Sempre cito Londra, cito New York, e questo è possibile, è sostenibile economicamente in Italia. Direi di noi. Veneto, tra l'altro, abbiamo anche una situazione molto florida rispetto ad altre regioni, perché io sono anche il presidente di tutti i circuiti, quindi le cose le conosco. Il sistema nostro nasce dal teatro di giro, per cui ogni piccolo paese ha un teatro. Se esistesse un unico teatro a Vicenza, al centro del Veneto, che serve i 4 milioni di abitanti, probabilmente questo teatro dovrebbe fare mattina, mezzogiorno e sera, e la notte anche dei spettacoli. Esistendo in Italia, straordinariamente rispetto al resto dell'Europa, il decentramento, ogni città ha il campo sportivo, la pista ciclabile, il teatro, la farmacia, il medico, perché è così, è nata così, specialmente il Veneto, che non ha una grande metropoli. Il Veneto è una metropoli diffusa. Decidiamo se è una periferia diffusa o una metropoli diffusa. Per cui molti teatri che sono nati dalla nobiltà, in ogni luogo c'è comunque un teatro, e se ne stanno costruendo ancora, leggevo un articolo che diceva, Dolo sta pensando al teatro di 500 posti, che oggi ne è uno che... Il fatto lo sta riaprendo. Sì, ma per esempio, perché oggi c'è un teatro che è in costruzione, che dovrebbe aprire, altri si stanno ultimando, perché il territorio è ricco di luoghi. Il problema è che non basta il luogo, deve avere gli abitanti, deve avere la capacità di farlo diventare il luogo di quella città. E le proposte ci sono per riempire il luogo? Perché un conto è portare gli spettatori. Avere i luoghi, bisogna avere anche le proposte. Allora, diciamo che la produzione è al netto della qualità, come quantità c'è. Il pubblico ci potrebbe essere, ma queste due cose insieme in un contenitore non sono sufficienti. Cioè serve denaro, perché altrimenti dovresti mettere i biglietti come gli anglosassoni. Io andrei a vedere Ketz, nel 1993 a New York, pagai 82 dollari. Io sono andata a vedere nel 98, sempre al stesso posto, però non mi ricordo quanto pagavi. Ho ancora il biglietto attaccato lì e quando mi dicono, ah, 5 euro, troppi soldi, mostro il biglietto del 93, 82 dollari. Alle 18, prima si andava un attimo a bersi un caffè aromatizzato. Un caffè con l'acqua, come avevano gli americani, però costava 82 dollari. Adesso andare a New York o a Londra a vedere uno spettacolo costa 150 sterline. Ora, in Italia questo non esiste. Questo non esiste, però secondo lei i biglietti sono troppo bassi, andrebbero rivisti, perché comunque un biglietto cosa sono 30 euro, che è una cifra significativa. Dipende dal reddito pro capito delle persone, perché è vero che a Londra costa 150 sterline, però un impiegato guadagna 3.000 sterline al mese, quindi facendo la produzione... Perché 30 euro in rapporto agli stipendi nostri effettivamente ha un suo peso. 30 euro, diciamo, noi avendo la forza, la fortuna, deve essere sostenuti pubblicamente. È chiaro che un occhio al costo del biglietto dobbiamo averlo. Certo, se uno spettacolo è commerciale, i 30 euro ci stanno tutti. Se uno spettacolo deve essere sostenuto, perché sta parlando di una cosa importante, sta parlando specialmente dell'ambito, per esempio, del teatro per l'infanzia e la gioventù, per i ragazzi, lì i biglietti sono simbolici, servono esclusivamente al bambino per andare alla cassa con i suoi soldini, perché magari ha rotto il porcellino, si compra un biglietto perché la cultura costa. Sì, è anche una questione educativa. Ma l'incultura costa molto di più. Assolutamente, assolutamente. Siamo in chiusura, altre chicche sulla saggione italiana. Stefano Corsi, a Zul, con la regia dei Finzi Pasca. Ecco che il miracolo comincia a succedere. E poi Paolo Calabresi, che fa Perfetti Sconosciuti, un film straordinario da brividi. Molti film che diventano teatro, che invece si avevano opposto. C'è Paolo Genovese, è lo spettacolo di Paolo Genovese. Quindi lo stesso che ha fatto il film lo porta in teatro. Poi Sirano di Bergeracchi di Arturo Cirillo, straordinario personaggio. Carrozzeria Orfeo, come ci avevamo detto, con Miracoli Metropolitani, che è una bella storia contemporanea. E poi Chiara Francini con Tario Fo, coppia aperta quasi spalancata. Quindi un abbinamento molto strano. E con Alessandro Federico. Umberto Orsini e Franco Branciaroli, per un will, per un non della Nathalie Serot. Per un sì e per un no. E la chiusura, con uno spettacolo che io gli adoro. Fumo i primi a portarli in Veneto. E sono i Family Flots, i mascherati, che hanno rubato dalla commedia dell'arte tutto il rubabile. L'hanno trasformato in qualcosa di più bello. E sono tedeschi, quindi mediazione, linguaggio, niente. Lo possono andare a vedere veramente bambini, persone anziane, gente che a teatro non ci va mai, gente che a teatro ci va sempre. Loro sono straordinari. È trasversale questo spettacolo. E a maggio. Quindi, mamma mia, per cominciare, il musical più importante, più forte che c'è, è i Family Flots per chiudere. Dentro c'è tutto l'arco parlamentare, di possibilità di vedere veramente un teatro che ha una dinamica fortissima. E non è un caso che sia a Mestre il teatro, che è la città più metropolitana che c'è. Sì, forse anche il melting pot più diffuso a Mestre, indubbiamente. Ovviamente. Questa identità, non identità, che diventa multidentità. Esatto, infatti nella multidisciplinarità, cioè Parsons Dance Company ci sta bene dentro, e ovviamente tutto intorno, i teatri di Portoguaro, Sant'Onalmira, Mirano, Cavalzer e Chioggia, Satellite, no? Diventano con attenzione il sottobosco per l'albero di alto frusto, ma le programmazioni sono tutte incrociate affinché non vi siano sovrapposizioni. In teoria, uno spettatore che avete nella zona di Venezia, potrebbe andare a teatro tutte le sere, lo resterebbero dopo un po', però potrebbe andare a teatro tutte le sere, perché sono un pazzo a teatro tutte le sere e il direttore che deve andare per lavoro. Quanto si diverte a fare il suo lavoro? Ancora mi diverto, ancora mi diverto, dopo 30 anni ancora mi diverto. Io la ringrazio, ringrazio per Luca Dunin, direttore artistico di ArteVen, ringrazio voi per averci seguito anche questa mattina, insomma, se piace il teatro o se si vuole fare anche qualcosa di diverso, di opportunità in Veneto, ce ne sono davvero, davvero tante. Grazie, arrivederci, a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.